Il comunale di Nereto, pareggio per 1-1 fra Nereto e San Benedettese, ad oggi un vero e proprio scontro salvezza. Passati in vantaggio nella prima frazione con Ristovski, gli uomini di Bitetto difendono il vantaggio con le unghie e con i denti, fino al 91esimo minuto, quando De Sena toglie le castagne dal fuoco con un calcio di punizione dall'altezza di 20 metri davvero magistrale. Con le immagini di Yuri Cantoro passiamo agli elesti della partita. La prima occasione è per gli ospiti al sesto, ma la spizzata con la testa di Mendicino esce a lato. Il Nereto si affaccia concretamente in avanti al tredicesimo, ma la zampata di Oe Draogo si trasforma in un duro intervento per l'estremo ospite a Brandini, infortunato e costretto al cambio. Al suo posto Bruno. Al primo tiro in porta, però, i padroni di casa passano in vantaggio. E Ristovski, che al ventisettesimo si mette in proprio dal limite dell'aria, e il Colmancini infila in diagonale il giovanissimo Bruno. Esplodono i tifosi locali. Nel finale di frazione non accade nulla da segnalare, se non un guizio di Oe Draogo che costringe Cipolletta al giallo. Sambu un po' nervosa. A rientro dagli spogliatoi, gli uomini detonati appaiono più determinati. Suona la carica Capitano Lulli, prima con un calcio piazzato spedito alto, poi con un cross tagliato sul secondo pallo non capitalizzato a dovere dai suoi compagni. Il Nereto si adegua e gioca di rimessa, suscitando più di un brivido sulla schiena di Bruno in fase di pressing. Al quindicesimo, alla voce contropiede, gli uomini di Bitetto si costruiscono un'occasione colossale, ma lo stop sballato di Faie sul più bello rovina tutto. Al ventisettesimo, l'esperto De Falco tesse i riflessi del portiere con un calcio franco che si abbassa pericolosamente all'ultimo. Da una parte all'altra, il secondo tempo è molto più vivace. Il solito Lulli tenta la conclusione dalla distanza, ancora troppo alta. Il nuovo entrato Travaglini prova a beffare De Luca che si salva come può. E' soltanto l'antipasso del gol che arriva all'ultimo respiro, nel primo dei cinque minuti di recupero, e De Sena a prendersi la luce dei riflettori con un calcio di punizione di pregevole fattura, che toglie le ragnatele dall'incrocio, una a una al comunale. Non accade più nulla, pareggio in fin dei conti giusto per quanto visto in campo. La Samp si prende 24 ore di riflessione per valutare la posizione di Donati. Il Nereto smuove la classifica alla prima di Bitetto. La scorza mentale, forse, è finalmente arrivata.